Roma incontra protagonisti e fatti della grande attualità un programma ideato e condotto da Enrico Cisnetto Buonasera, buonasera bentrovati a Roma incontra poco se mi giudico, tanto se mi confronto non so se Matteo Renzi abbia fatto proprio questo approccio alla vita ma sono convinto che gli si attaglie perfettamente perché il ragazzo fiorentino, se si giudica la sua azione politica e di governo si merita non poche critiche e noi di Roma incontra ne abbiamo certe fatte mancare anche a rischio di farci scrivere d'ufficio nel partito dei gufi ma non appena si volge lo sguardo verso i suoi avversari vicini e lontani allora viene voglia di portarlo in trionfo perché guardate quello che succede nella cosiddetta sinistra PD solo rancore, senza la benché minima capacità di dare dignità politica e progettuale a quello che si fatica a chiamare opposizione interna vale per Bersani, per D'Alema, per Cuper, per tutti i rottamati ma anche fuori dal PD, alla sua sinistra c'è solo confusione da Selle ormai vedova di Vendola ai comunisti d'Huntown dai no a tutto alla fioma di Landini non riescono neppure a mettersi d'accordo per fare liste uniche alle amministrative ma si chiama regolamento di conti e non battaglia politica anche quello che succede sia al centro spaccato tra chi sta con Renzi per convenienza e chi sta contro di Renzi perché non ha portato a casa niente e in quello che fu il centrodestra sì, fu il centrodestra perché Roma è lì a testimoniarlo dietro la disastrosa implosione è visibile anche agli orbi uno scontro tra una Lideci definitivamente tramontata quella di Berlusconi e una impossibile quella di Salvini come ho sempre detto tra loro la convenienza non è fattibile se forse Italia cede alla Lega in versione lepenista e ne riconosce la leadership il centrodestra sarà inevitabilmente minoritario e lascerà a Renzi il campo per conquistare il voto dei moderati viceversa se Salvini si chiama fuori come ha fatto il centrodestra perde un blocco significativo di voti che ragionevolmente si uniranno a quelli del Movimento 5 Stelle scontateci snetto ma riguadagna la possibilità di fare il pieno dei voti moderati una quadratura del cerchio che è un'unica soluzione che i moderati del centrodestra e i riformisti del centrosinistra governano insieme tagliando fuori le rispettive ali quello che nella prima Repubblica era il centrosinistra la DC con il PSI e i partiti laici pensate che sia impossibile? chiediamolo ad un esperto uno che quando c'erano i democristiani e socialisti insieme lui c'era l'autore per utet di un libro che si chiama e che vi consiglio vivamente che si chiama La Repubblica delle giovani marmotte Paolo Cirino Pomicino eccomi buonasera è una delle colonne portanti della tanto vituperata prima Repubblica dopo un quarto di secolo quella prima Repubblica prima all'inizio suscitava oltraggi adesso un po' più di nostalgia suscita l'impressione democristiano andreottiano dovrebbe essere un reietto e invece sono tutti lì che gli chiedono di analizzare criticare proporre consigliare suggerire tutti lo ascoltano tutti lo leggono una specie di oracolo per un certo periodo ha usato lo pseudonimo di Geronimo poi adesso è da un po' che usa la sua firma come per questo libro con la prefazione di Giuliano Ferrara che ha come sottotitolo non a caso l'Italia e il mondo visti da un democristiano di lungo corso appunto democristiano eri democristiano rimani non c'è dubbio ora però c'è un democristiano al Quirinale un post democristiano a Palazzo Chigi quindi dovresti essere contentissimo e questo nelle prime pagine affermo la mia gioia nel vedere un democristiano gioia sommessa sussurrato come è giusto orissia nella tradizione democristiana però è anche vero che ci sono molti democristiani ma non c'è la democrazia cristiana il che è una cosa profondamente diversa che i democratici cristiani da soli sparpagliati sono una cosa e i democristiani messi insieme hanno una cultura di fondo che non solo li unisce ma gli consente di avere una lettura dell'Italia e della vicenda internazionale molto più precisa io metto subito i piedini al piatto se tu me lo consenti c'è un ricordo personale che io cito nel libro quando all'inizio del 1991 invasione delle truppe di Saddam Hussein truppe irachene nel Kuwait Bush padre telefonò a Giulio Andreotti ero casualmente in quel momento presente nella sua stanza a Palazzo Chigi casualmente era sempre lì no era sempre lì perché facevo il ministro 113 quindi è diverso insomma e in quell'occasione Bush padre voleva invadere sin da quel momento l'Irat di Saddam Hussein non dimentitante che Saddam Hussein fu fidanziato dagli americani nella lotta contro l'Iran di Tomeni dove vuoi andare a parare? no e che Giulio Andreotti gli spiegò come si suol dire con il tacco e con la punta che se avessimo rimosso Saddam Hussein in una zona così delicata piena di scontri etnici secolari avremmo fibrillato tutto il Medio Oriente in realtà in quell'occasione anche i Coole e Mitterrand ebbero la stessa sostegno la stessa tesi per cui Bush padre si fermò dieci anni dopo Bush figlio in una Europa balbettante ha invaso l'Iraq hanno bombardato tutto il Nord Africa e i flussi migratori sono qui a ricordarci come la visione geopolitica è una visione di statisti e non sempre tutti sono però adesso Renzi di fronte all'ambasciatore americano che addirittura tramite un'intervista dal Corriere della Sera gli dice cosa bisogna fare lui non prende ordini diciamo o no? beh certo sarebbe strano se poi la mattina dopo avesse detto allora i 5.000 partono domani mattina però il dato vero è che su questo versante noi abbiamo fatto dei pasticci in questi ultimi dieci anni sul piano geopolitico che è veramente impressionante ma io lo dico non per dire la seconda repubblica è cattiva la prima è buona assolutamente insomma il dato reale che purtroppo quando la politica io sentivo la tua introduzione quando la politica mette da parte le grandi culture che sono la bussola per i partiti io faccio sempre un paradone lo chiedo a ciascuno di voi se voi aveste visto ad esempio nel sistema politico tedesco che fossero scomparsi improvvisamente i cristiano democratici i socialisti i socialdemocratici i liberali e i verdi e ci fosse stato forza Germania il cipresso la siepe il cavallo e di qualun'altra cosa avreste detto di un sistema politico non è una battuta diciamo così per fare della stupida polemica ma senza una cultura di riferimento che è una bussola dinanzi alle sfide notevolissime che sono nel terzo millennio i partiti arrancano si trasformano non sono più partiti sono comitati elettorali dove c'è la personalizzazione della politica e anche qui mi dispiace farlo ma io devo dare qualche antica pillola di saggezza quando Giulio Andreotti tornò a Palazzo Chigi per l'ennesima volta nel 1989 un giornalista gli disse ma presidente ancora una volta a Palazzo Chigi ma ci spieghi se lei avesse tutti i poteri nelle sue mani cosa farebbe e lui rispose qualche errore in più la verità è che in realtà il governo di una società inquieta ha bisogno di organismi tolleggiali decidenti ma organismi tolleggiali perché servono più orecchie per ascoltare un paese ricco di inquietitudini come le società moderne e c'è bisogno poi naturalmente all'interno di questo che ci siano i leader finali che hanno la sintesi questo purtroppo non è attradutto in 20 anni ci sono stati i comitati elettorali non più partiti e la selezione della classe dirigente è stata per cooptazione a proposito di classe dirigente ma chi sono questi scout i giovani marmotte questo lo devono dire i lettori e io vorrei dire che il titolo può sembrare un po' polemico però guardatelo anche come un titolo tenero chi è che non vuole bene a qui qua qua tutti vogliamo bene a qui qua qua soltanto che nessuno affiderebbe il paese a qui qua qua tutto qua ecco è il caso di dire però il dato meglio sarebbe Zio Paperino che di solito è un po' sfigato sì però c'è compensato da Gastoni qui Gastoni non mi pare che ci sia neanche in lontananza mentre c'è in tomb Zio Paperone che non è di questo paese la riprova e lì troverete documenti statistiche importanti Zio Paperone internazionale che ormai ha acquistato larga parte del nostro sistema finanziario e di grandi eccellenze industriali siamo nelle mani degli stranieri beh in larga parte nelle mani degli stranieri e aggiungo in particolare dei nostri amici francesi non hanno più per cosa comprare che effetto ti fa Bolloré che ha Telecom influenza Mediobanca è decisivo in generale fa l'effetto che noi stiamo diventando spiace dirlo ma ho messo in un articolo una colonia spero beh una colonia insomma non abbiamo materie primer quindi non siamo neanche sfruttabili siamo però un mercato di consumo e produttori per conto terzi noi non abbiamo più nel nostro sistema finanziario bancario una presenza pubblica come ce l'hanno i tedeschi e i francesi e quando nelle crisi finanziarie i poteri ultimi non sono nelle mani dello Stato ma sono nelle mani del mercato il disastro è naturalmente all'ordine del giorno perché il mercato non si fa carico dell'interesse generale il mercato si fa carico legittimamente dei profitti dei vari protagonisti del mercato ma non degli interessi generali però vedo che qui non avete un bicchiere adesso te lo porto perché ci siamo dimenticati aspetta guarda brevi mano perché è risparmio qua eh ragazzi mica siamo alla RAI qua senti ma è vero che quello che tu dici e cioè non ci avevo riflettuto leggendo il libro mette in fila partendo da dal 94 Barucci Ciampi Tremonti Siniscalco Grilli Padoan tutti i ministri del tesoro dell'economia perché una volta c'erano i ministeri separati quando lui faceva il ministro del bilancio adesso sono tutti insieme il che rende ovviamente quel posto ancora più di potere però sono tutti non politici esatto e la domanda allora uno dice beh ma allora meglio perché così ci capivano di più no? si infatti si vede peraltro si vede ti ha alzato una palla lo sai no lo so non è che la verità è che una cosa è la tecnicalità la professionalità di settore una cosa è la visione politica che richiede un talento che è la somma delle professionalità io lo dico sempre e lo dicevo anche all'epoca un medico non deve fare assolutamente il ministro della sanità così come un economista anche perché se non gli toccava anche a te tu sei medico infatti no no ma io mai ho sempre rifiutato di dedicarmi al discorso nel quale ero professionalmente attrazione non c'ha la faccia ma era una persona seria insomma tanto tempo fa ma è il dato vero e d'altra parte prima di me l'ha detto con maggiore autorevolezza e maggiore spiritosaggine è Clemenso quando disse la guerra è una cosa troppo seria per lasciarla fare ai generali e la stessa cosa è per l'economia è una cosa troppo seria per lasciarla fare a quelli che hanno ai tecnici a quelli che hanno scritti libri perché poi sanno come alla fine della giostra io ho avuto il piacere di avere nella commissione bilancio del senato una serie di professori autorevoli di personalità autorevole e quando ero ministro del bilancio in realtà riuscivo a far passare la finanziaria senza colpo ferire perché intanto i professori dislocati in vari ruppi litigavano sui libri che avevano scritto e naturalmente il governo passava e lui faceva quello che gli pareva e lo sappia ma è la dimostrazione purtroppo se poi va a vedere quei nomi che lei ha fatto che tu hai fatto scusami che tu hai fatto sono stati ministri del tesoro e poi sono stati nelle banche d'affari altri di loro venivano anche dalle banche d'affari allora con tutto il rispetto parlando una politica che non ha più un politico che sappia discutere di economia beh signore è un paese che non produce più classe dirigente all'altezza del bisogno senti a proposito di banche d'affari c'hai nostalgia di Cuccia? sì molto perché Cuccia non ha mai avuto nonostante gli scontri all'epoca ci furono in particolare con me quando ero alla guida della commissione bilancio e ci fu la privatizzazione ma quel sistema anche il cosiddetto salotto buono che adesso non c'è più è diventato tinello e poi è stato a zero e poi è stato venduto adesso il primo azionista e io lo dirò in qualche altra occasione è un bagno senza finestra i due maggiori azionisti sono due stranieri uno è Bolloré l'altro è Unitredit voi mi dite ma dopo Unitredit è straniero e sì certo perché i due terzi del capitale sono in mano ai fondi stranieri al mercato e uno dei fondi più importanti è il fondo arbo di Abu Dhabi Abbar se non vado errato più c'è BlackRock lo stesso con il 5% cioè dinanzi a una stagione globalizzata con la finanziarizzazione dell'economia un governo quali strumenti ha per poter intervenire dinanzi a un'emergenza ci vorrebbe un'altra IRI? beh ce l'ha e non la sanno utilizzare chi è la cassa dei posti e prestiti che sta seduta su 200 miliardi di euro e che in realtà dai soldi ha rotto forte per fare l'albergo ora siamo davanti veramente neanche alla follia perché la follia ha una sorta di genialità al proprio interno nel cuore profondo e invece nel caso specifico non mi sembra che ci sia una cosa di geniale senti Paolo ma tu voti a Roma o a Napoli? a Roma a Roma a Roma e quindi ti tocca vedere se l'economista ha ragione quando dice che vincono i 5 stelle a Roma che dici tu? beh l'economista fa un endorsement per dirla in inglese così esplicito nei confronti di un soggetto politico come il 5 stelle i nostri amici inglesi da sempre hanno guardato l'Italia anche perché forse condizionati dalla loro storia una volta passata l'era coloniale hanno fatto il Commonwealth e in qualche maniera l'amore degli inglesi per alcune zone del nostro paese hanno fatto sempre ritenere ai governanti di sua maestà britannica che noi in qualche maniera eravamo alle porte per l'ingresso in un nuovo Commonwealth casomai invisibile ma nei fatti un Commonwealth lo fanno i padroni a casa nostra tanto per dirlo e tanto per non cambiare solo per dire una cosa che non è un caso che la Gran Bretagna che è un paese liberista anzi ultra liberista mica ha concesso quello che dicevo prima a proposito dei poteri ultimi da dare al mercato ad esempio la Gran Bretagna non aderisce alla disciplina dell'unione bancaria secondo la quale lo Stato membro non può salvare una banca salvo poi che se la banca fallisce ci deve mettere i soldi di tasca proprio cioè di tasca dei contribuenti perché la Gran Bretagna resta ha l'imprendente di avere nel proprio Stato i poteri ultimi che sono necessari in qualunque società di diritto e non lasciarla invece al mercato con tutte le forze egemoni che ci sono dentro al mercato senti ma perché definisci Renzi una grande speranza che si è rapidamente trasformata addirittura in un incubo democratico esagerato no ma infatti è sufficiente che tu mi spieghi oggi mi possa spiegare che organizzare tenete sempre presente che ogni partito cerca di trasferire il modello proprio nell'ordinamento dello Stato è un dato più che naturale la DC però ci è riuscita bene ma infatti era un grande paese democratico infatti della DC tutto si può dire tranne che non fosse stato e non fosse un partito democratico ma detto questo se qualcuno mi dice che in realtà la democrazia politica si mantiene se in realtà il paese viene dato ad una minoranza quale che essa sia fosse anche una minoranza di democratici cristiani ma una minoranza il democratico cristiano è dai su beh ha le sue radici ma molto spesso il contesto finisce per inquinare le radici quindi le radici sono quelle non c'è dubbio d'altra parte sia lui sia la pianta innaffiata male le radici sono buone no non è innaffiata male il contesto condiziona il contesto condiziona se avrò il tempo vi racconterò un aneddoto della seconda repubblica nel Parlamento ci sono molte persone serie ma il contesto è tale per cui anche loro vennero diluiti io cito un giornalista Mazzucca che era deputato nel 2006 nel 2008 dirò bene PDL direttore della nazione del resto del Carlino quindi una persona che aveva dato conto di sé sul piano intellettuale che un giorno mi disse disperato Paolo qui ci hanno tolto non il diritto di parlare il diritto di capire per cui pur essendoci ripeto grandi realtà personali il contesto li fa diluire e fa diventare un Parlamento oggettivamente molto debole senti ma sei d'accordo che con quello che ho detto nella mia introduzione cioè che l'ideale sarebbe che i moderati e i riformisti stessero insieme tagliando fuori i reali ripetendo sostanzialmente l'esperienza della DC quando si mise insieme con il PSI i partiti laici ma non c'è dubbio ma si può fare o è solo una nostalgia canaglia di noi vecchietti ma prescindere dal fatto che io non sono nostalgico no no è la mia la nostalgia ho ancora fino a 120 anni ho ancora in grado più di Berlusconi più di Berlusconi l'unico dato di Berlusconi ne mi convince lui c'è un vantaggio che si è fatto fare sette cuori nuovi si è fatto operare sette mila volte io invece di farmi lifting mi cambio gli ordini faccio più presto insomma diventa molto semplice cioè tu invece del lifting esterno fai quello interno lo faccio interno esatto senti ma si riesce a fare o è solo una ma per fare quello che tu dici che badate bene non è una battuta nostalgia come diceva scherzando Cisnetto la verità è che quello che sta accadendo più volte reiteratamente in Germania quello che probabilmente accadrà in Spagna cioè società inquiete devono avere due grandi forze popolari in grado di dirigere la società invece del cosiddetto bipartitismo che in realtà esiste in quei paesi in cui la società è bipartitica la società americana è bipartitica eppure viene sconvolta da un personaggio populista tipo Trump però nelle società europee ci sono più opzioni politiche la legge elettorale è una macchina fotografica rileva le opzioni politiche tu la fotografia la puoi ritoccare vedi la soglia di accesso ma non la puoi cambiare con un premio di maggioranza del 15% che consegna il potere di uno Stato nelle mani di una minoranza per giunta per giunta ritornatelo per giunta la somma tra riforma costituzionale e legge italicum non vi farà più votare né i senatori né la maggioranza dei deputati quasi la metà dei deputati per essere più precisi allora se questo è una forma democratica per carità se uno me l'argomenta voterai no al referendum e beh ma non c'è dubbio non c'è dubbio non c'è dubbio ma perché io ritengo che al contrario si debba ritornare a scegliere i propri legislatori ma non è possibile che i cittadini debbano scegliere il consigliere di quartiere e non possano scegliere il proprio deputato e il proprio senatore da un lato e dall'altro lato con molto rispetto la maggioranza parlamentare deve essere sostanzialmente la maggioranza del paese questo hanno fatto le democrazie parlamentari se la democrazia parlamentare è in affanno la cultura offre un'altra soluzione Paolo però la maggioranza del paese oggi è una maggioranza di gente incazzata che o non va a votare o vota soggetti diciamo che vellicano la 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 l'arrabbiatura ma vedi ma tu pensi che veramente negli anni settanta quando c'era quando ci ci sparavano è vero non c'erano tensioni dopo il 68 e non avevamo governi di minoranze in grandi difficoltà quale fu l'idea dei grandi partiti di avere una fase di transizione in cui addirittura dei morristiani e comunisti fecero il governo di solidarietà nazionale ma nessuno ci confondeva perché perché ognuno di noi aveva un profilo identitario oggi qual è il profilo identitario di forza italia del partito democratico di scelta civica fratelli d'italia sorella bandiere e quant'altro cioè diventa veramente tutto frantumabile e tutto come dire sfarinato e quindi è ovvio che non c'è più la voglia di andare a votare allora di qua quella tesi alla quale facevi riferimento tu sarà possibile se i partiti tornano a riscoprire le rispettive culture di massa se quelle culture che governano gli altri paesi non è tu vuoi la luna che non c'è più no questo c'è in tutto il centro Europa c'è all'interno del finanza in Gran Bretagna il bipartidismo ha lasciato il posto a una coalizione fra i liberal e i conservatori quindi quella cosa che dici tu presuppone una modifica dei partiti attualmente esistenzi senti ci abbiamo ancora mezzo minuto spogliati delle tue visioni e fai l'analista distaccato in termini di probabilità A come vanno a finire le amministrative B come va a finire il referendum C quando si va a votare per le politiche e quindi che succede in quel caso là no ma chi fa le previsioni è destinata all'insuccesso e si trova in verità questo è tipicamente democristiano ma che dubbio c'è certo è così e peraltro anche i sondaggi in realtà nascondono disuguaglianze però lasciami dire in questo mezzo minuto invece una cosa mezzo minuto per la quale vi dico se non volete comprare il libro fatevelo prestare perché c'è tutta la parte centrale della crisi finanziaria di cui nessuno vi parla dell'industria finanziaria che sta succhiando il sangue all'economia reale a quell'economia di mercato per la quale molti di noi hanno lasciato la vita e hanno avuto un segno indelebile nella propria e dinanzi al quale ci sono stanno nascendo e alimentando disuguaglianze impressionanti all'interno del paese e dinanzi alle quali non c'è nulla dico nulla di cui né i grandi giornali né autorevoli rappresentanti del governo e dell'opposizione ne parlano io se ho scritto questo libro è proprio per affrontare questo nodo della crisi finanziaria che va sotto il nome tecnico della finanziarizzazione dell'economia è un'industria a sé stante che rappresenta in realtà è l'uso finanziario del capitale e badate bene che il benessere delle popolazioni chiudono lo si realizza con la diffusione dei beni e dei servizi la diffusione dei prodotti finanziari genera arricchimenti elitari e povertà di massa perché toglie le risorse alla produzione di beni e servizi schematizzo naturalmente ma vi consiglio di leggere Paolo a pagina 258 dici che Renzi ha sostituito Bonino con Mogherini per non sentirsi oscurato visto che adesso tu ti alzerai da questa seggio e ci si siederà proprio la Bonino ti vorrei chiedere una radicale come lei nel tuo governo ideale ce la metteresti tu da cattolico assolutamente sì perché devo dire che la Bonino è stata anche erratica rispetto alla storia radicale perché la Bonino è stata un'autorevole componente della commissione europea apprezzata in tutto il mondo e lo dico all'epoca in realtà non c'erano le condizioni politiche perché non era poi bisognava un attimo però oggi la Bonino ha avuto modo di dare segno di sé e della propria capacità di governo che è atipica rispetto al mondo radicale io te vieni che deve venire la Bonino ciao in gamba grazie fatevi prestare il libro state con noi diamo una mano al picco la pubblicità fra poco bentornati a Roma incontra sono felicissimo che abbia accettato il nostro invito Emma Bonino l'applauso dice tutto d'altra parte la lista è lunga divorzi aborto pena di morte eminenti uomo diritti delle donne è una vita di battaglie da radicale da parlamentare italiana ed europea da ministro da commissaria europea da vicepresidente del senato battaglie vinte battaglie perse ma che erano già vinte per il solo fatto di essere combattute oggi combatte una battaglia per sé e per le persone che sono tante che le vogliono bene combattendo una battaglia difficile ma forse forse sei qua quindi vuol dire che sta andando bene la storia di Emma parte dalla provincia di Cuneo dove nasce nel 9 marzo del 48 quindi auguri in ritardo ma auguri passa per Milano Roma Bruxelles per tutto il mondo e non solo perché parla sette lingue ecco a proposito delle lingue ho la sensazione che oggi sullo scenario lo scenario mondiale lo scenario internazionale in particolare quello mediterraneo sia una specie di babele dove nessuno ha le chiavi interpretative pensi che sia così e com'è che ci siamo finiti perché prima c'erano stagioni geopoliticamente definite quella dopo quella guerra fredda Ialta poi il multilateralismo adesso ho l'impressione che siamo in una specie di casino o no? siamo in un mondo diverso quello che commentiamo sempre dei convegni del sabato e la domenica dove nel sabato e la domenica uno dice il mondo è multipolare non è più bipolare non è più determinato solo da Russia Stati Uniti benissimo diciamo quello che non è più ma non diciamo quello che è e il problema è che poi dal lunedì al venerdì quando si tratta di fare scelte politiche è come se fossimo rimasti a quei tempi e quindi sembra una babele perché la lettura che noi diamo secondo me in generale su quello che sta succedendo nel mondo musulmano in particolare nel Mediterraneo del Sud è una lettura sbagliata vedo che adesso la mia lettura comincia a diventare un pochino più diffusa un po' più popolare ma a mio avviso quello che è successo sono sostanzialmente due cose la prima è che in questi ultimi dieci anni sono cresciute delle potenze regionali parlo della Turchia parlo dell'Arabia Saudita parlo del Qatar che non erano sulla scena internazionale come attori per esempio qualcuno di voi gli viene in mente vent'anni fa qualcuno sapeva dove stava il Qatar il Qatar e che sarà mai una specie di Umbria su un promontor e invece ha una potenza una forza finanziaria ideologica culturale fantastica no? è l'inventore di grande influenza l'inventore di Al Jazeera tanto per dirne uno e questo mondo che è diventato un mondo un mondo importante è un mondo che ha interessi confliggenti per cui quello che sta succedendo è una grande guerra non tanto tra sunniti e sciiti Iran quella c'è sempre stata dal 400 in poi a fase alterna no la novità che ha colto tutti di sorpresa e quindi con difficile capacità di lettura è lo scontro all'interno della famiglia sunnita di cui tu hai molto evidente che da una parte hai sunniti diciamo di cultura fratelli musulmani diciamo così quelli arriviamo al potere politica ma per via elezioni non dico per via democratica ho detto per via elettorale che è un'altra cosa diciamo e magari è del tipo una elezione basta ma comunque e dall'altra parte hai invece i vaabiti che sono le monarchie del golfo di altra estrazione culturale molto più rigida molto più conservatrice nell'applicazione del corano e la sharia e avanti di questo passo che vedono le elezioni come il diavolo perché se per caso andassero a votare dalle loro parti non è detto che ne escono bene che ne escono benissimo e che hanno da sempre sposato una ideologia molto più reazionaria molto più conservatrice sono quelli che pensano di tenere il potere via gruppi collaterali sono i primi sostenitori e inventori per la verità di Al-Qaeda Al-Qaeda che tutti poi improvvisamente abbiamo conosciuto è un'espressione un'invenzione diciamo dell'Arabia Saudita e degli Emirati e vale altrettanto per l'Isis questa cosa? ah certo l'Isis è di estrazione di cultura tipicamente va a vita noi poi ci siamo accorti dell'Isis come sempre noi passiamo da una sorpresa all'altra io sono affascinata è sempre Pasqua da questa idea che ogni volta che succede una cosa invece sta scritta come ha detto Pomicino prima che ci svenute meno le culture politiche ci mancano gli occhiali per leggere le cose beh io ho l'impressione uno che abbiamo perso un po' di memoria e mi riferisco tanto per non sbagliarmi a rifugiati immigrati e quant'altro proprio abbiamo perso la memoria e devo dire che si è affievolita anche la vista perché quando noi guardiamo a sud nel Mediterraneo secondo me vediamo delle cose che vediamo solo noi e che non è vero che lì ci sono per cui non sapendo leggere quello che succede tenete conto peraltro che noi abbiamo dal 1956 un via americana ma insomma in buona sostanza un accordo con l'Arabia Saudita che viene messo adesso un pochino in discussione dopo Isis Al-Qaeda eccetera ma è un accordo che ha resistito senza proprio a 3.000 morti negli Stati Uniti cioè le torri gemelle sono state fatte esplodere chiarissimamente ormai da Al-Qaeda con tutti i sostegni che ben sappiamo 3.000 morti nel centro di New York non mettono neanche in discussione l'accordo diciamo Stati Uniti e Arabia Saudita per via delle basi militari per via di quello che volete però è sempre stato un accordo in cui noi siamo poi parte totalmente a critico per via del petrolio prima per via delle basi militari adesso che non è più un problema del petrolio e solo adesso si sta aprendo un po' di velo proprio perché la successione all'interno dell'Arabia Saudita è una roba fuori controllo e quindi guerra in Yemen insomma c'è veramente l'Arabia Saudita si sta comportando in modo poco sensibile alle pressioni internazionali Emma parliamo un attimo della Libia che impressione ti fa che un ministro Lapinotti dica 5.000 in Afghanistan erano molti di più quindi come minimo dobbiamo mettere 5.000 5.000 poi dopodiché c'è un'intervista a un giornale dell'ambasciatore americano che dice beh quindi allora per favore muovetevi poi il primo ministro che dice no forse non ci siamo capiti la sensazione è quella di essere su una barca che traballa sì non da soli siamo su una barca dove tanti capitani eccetera anche lì la mia impressione è che abbiamo letture diverse di quello che succede in Libia guardate a mio modestissimo avviso in Libia è esattamente la guerra tra sunniti più le milizie più le tribù più quello che volete però tu hai Tripoli che è sostanzialmente Tripoli misurata che è sostanzialmente buona sostanza sostenuta ai fratelli musulmani Turchia Qatar quello che ti pare e Tobruk che invece va a vita sostenuta dall'Egitto dall'Arabia Saudita e Emirati via Egitto in buona sostanza e si combattono più appunto dicevo tribù e milizie che hanno come dire alleanze fragili no? tu un bel giorno li trovi con Tobruk ti svegli la mattina dopo e le stesse milizie stanno esattamente con Tripoli sembra il Parlamento italiano dove quindi in questa condizione io capisco che è frustrante che è lungo che è tutto quello che ti pare ma io non sono affatto convinta che un intervento militare in particolare solo dall'alto risolve alcunché ma veramente anzi questi libici che si litigano tra di loro su qualunque cosa se ci fosse solo un intervento occidentale è il modo con cui si riuniscono tutti contro diciamo l'ennesima invasione dell'Occidente eccetera eccetera dopodiché li abbiamo forzati su un accordo che mi sono permessa di dire era intempestivo fatto male non aveva secondo me non aveva abbastanza base a Tripoli non andava firmato così eccetera eccetera no 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 ci abbiamo fretta ci abbiamo fretta e fa tanto piacere però quell'accordo il governo ancora non c'è a Tripoli non riesce a entrare peraltro lo stesso ministro di quel futuribile governo ha fatto il piacere di dircelo cioè di dirci espressamente in una grande intervista vedete di non azzardarvi a venire qua perché proprio non vi facciamo entrare insomma sicché è più lunga la strada di pressione diplomatica sull'Egitto per esempio quindi di nuovo siamo all'Arabia Saudita eccetera ma in Libia a parte l'ulteriore complicazione delle tribù fazioni e quant'altra è la stessa battaglia sostanzialmente lo stesso meccanismo lo stesso meccanismo e guarda che quello che è in discussione non è da poco cioè l'egemonia culturale finanziaria geostrategica eccetera di una parte del mondo sunnita contro l'altra ora se non si mettono d'accordo Ancara Damasco Teheran e Riyadh c'è veramente molto poco che possiamo fare da fuori possiamo bombardarli questo sì e poi sul terreno chi lo tiene il controllo del terreno infatti i bombardamenti senza sapere cosa succede dopo non sono particolarmente intelligenti senti ma hai citato due cose uno la Turchia la Turchia e l'altra l'Egitto partiamo dalla Turchia la vicenda dell'accordo che c'è stato sulla questione dei migranti tu come la vedi io personalmente ho l'impressione che tranne i turchi che dovrebbero essere contenti perché hanno preso 6 miliardi perché poi per il resto non mi pare che risolva un tipo seco io temo che non funzionerà sulla carta è finalmente rispettoso dei diritti individuali eccetera ripeto sulla carta ma per fare appunto questo screening eccetera tanto per gradire ci vogliono perlomeno 6 mila funzionari che siano interpreti giudici eccetera prima che i 28 stati membri si mettono d'accordo su come selezionano e poi mandano 6 mila funzionari vedo in sala gente che ha più esperienza di me per tanto tempo nel frattempo è successo l'ira di Dio poi servirebbero 28 autobus per ribandarle indietro non ne parliamo 8 navi sento di figuriamoci quindi insomma secondo me e politicamente anche secondo me più più perché abbiamo sostanzialmente appaltato il controllo delle nostre frontiere esterne e la soluzione si fa la soluzione insomma un cerotto alla soluzione che si è creata alla Turchia questo abbiamo fatto in buona sostanza la quale peraltro non è che chiede solo soldi che peraltro no chiede ben altro chiede la liberalizzazione dei visti l'apertura del negoziato eccetera e poi facciamo anche gli spiritosi la Turchia ha 90 milioni di abitanti ha 2 milioni e mezzo di profughi ha chiuso adesso le frontiere un po' con la Siria e noi andiamo persino a dirgli aprite le frontiere con la Siria mentre noi stiamo chiedendo tutte le nostre immaginatevi il tipo di credibilità che abbiamo dopo che per anni non siamo riusciti a integrare in Europa dopo che l'abbiamo cacciata per la verità perché anche lì viene da lontano la miopia politica rispetto alla Turchia quindi insomma secondo me io temo che questo che se per caso funziona e quindi si è chiusa la rotta balcanica non è che la gente che sta in Grecia adesso sta sulle pietre di Delfi per tutta la vita si rimetterà in mare e rimettendosi in mare per esempio da Patrasso secondo voi dove va? dove va? in Sudafrica dove va secondo voi oppure passa a piedi via Albania e dall'Albania dove va secondo voi forse forse mi permetto di dire al governo che sarà bene che si prepari perché qualcosa o riprendono la via libica o riprendono la via albanese ma insomma sarà bene essere preparati su quello che sta forse per succedere pare di no però non fa niente lo dico no no mi è importante dirle le cose poi almeno si metteranno agli atti sei stata quattro anni al Cairo cosa pensi della morte di Regeni? ma non è che ho la come dire la sfera di cristallo ovviamente qualche elemento in più degli altri ma innanzitutto c'è una lezione politica che dovremmo imparare che di fronte a regime autarchici o dittatoriali insomma con cui bisogna avere rapporti io non sto dicendo che però un minimo comunque un po' più di equilibrio quindi prima di prostrarci tutti in ginocchio dall'imperatore Sissi secondo me era meglio che ci dessimo una regolata ma comunque tanto per capirci il dramma Regeni mette in evidenza tre cose la prima che finalmente sappiamo che dal 2013 sono state messe in carcere in Egitto 40.000 persone quasi tutte addebitate di essere fratelli musulmani compreso un gruppo di ragazzi del 6 aprile che non c'entrano proprio niente la maggioranza di questi non ha un capo di imputazione non ha accesso agli avvocati e la famiglia non sa dove si trova d'accordo? no per dire in che situazioni stiamo la mia l'opinione che mi sono fatta io è che il governo egiziano ha tentato in modo risibile una serie di spiegazioni che non esistono cioè quella della criminalità comune per esempio conoscendo il Cairo nel posto dove hanno trovato il corpo non è possibile che la gente andasse a passeggiare no proprio non ci si va da quelle parti poi le torture non 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 si attanagliano con la criminalità comune che poi che fosse una spia la mia opinione è che i vari corpi di polizia più i servizi segreti i mukhabarat più gli squadroni che sono ancora previsti dalla legge Nasser 1956 alla prima repressione contro i fratelli musulmani che fu drammatica si è scappato il pedale da qualche parte sostanzialmente scappato di mano e d'altra parte che la brutalità della polizia ogni tanto gli scappi di mano anche dalle nostre parti la vicenda Cucchi più o meno dovrebbe farci capire che spesso succede però lì è in gioco qualcos'altro di tutta evidenza io non mi spiego non perché non sia stato ucciso questo non lo so ma quello che mi fa dire che è una guerra tra corpi di polizia è che sia stato fatto ritrovare il corpo perché questo è veramente stupefacente guardate che bastavano due sassi in fondo al Nilo è chiuso il discorso ma che abbiano fatto ritrovare il corpo è veramente sorprendente davvero e mi fa pensare a guerre interni e non gestiti di corpo di polizia senti a proposito di guerre interne parliamo dell'Italia da quella telefonata del febbraio 2014 in cui ti diceva che che non ti confermava nell'incarico hai più sentito Renzi? no fuori dai denti cosa pensi di lui? penso che la cosa che mi preoccupa di più è una questione forse non so culturale cioè mi sembra una persona piena di energia ma un po' spiccia diciamo e che manca di una visione per spiccia intendi superficiale? no spiccia nel senso che va per le spicce ah ecco e che volevo salvarlo un po' eh? no volevo salvarlo un po' ma vedo che che va per le spicce non è che ho detto niente no 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 ho detto qualcosa di insultante no assolutamente cioè mia mamma diceva che la buona educazione è rivoluzionaria se qualcuno se lo ricordasse brava senti eh a proposito di ricordarsi il tuo amico Giacchetti si ricorda secondo te di essere stato radicale o no? ma guarda ha passato capodanno in carcere con pannella tanto per essere questo prima di candidarsi ma adesso mentre si candida diciamo si ricorda ma guarda secondo me gli converrebbe e gli conviene per il semplice motivo che non è che c'è tutto sto entusiasmo per votare PD a Roma no? non so voi cosa ne pensate ma insomma l'amministrazione uscente non è che ha dato proprio dei segni di brillantezza effettivamente e in più è esploso anche su una questione tirata fuori dall'unico consigliere comunale radicale Riccardo Maggi che ha tirato fuori lo scandalo Rom per intenderci e da lì è venuta fuori mafia capitale eccetera eccetera e peraltro vabbè comunque io credo che il valore aggiunto che i radicali io spero di riuscire a fare una lista radicale in appoggio a Giacchetti premesso che lo ritengo il più adeguato per conoscenza dell'amministrazione per come lo conosco come persona eccetera io penso che però essendo dicono i sondaggi un po' così con il Movimento 5 Stelle io penso che più adeguato Giacchetti penso che dovrebbe fare tesoro della buon governo che i radicali hanno dimostrato sempre ovunque siano andati voi ricorderete alla Regione alla Regione viva Dio nel 2010 grazie anche ad alcuni interventi del PD vince la Polverini però riuscimmo a fare entrare due radicali Rosso di Vita e Rocco Berardo i quali dopo un anno che stavano lì hanno tirato fuori lo scandalo dei gruppi parlamentari da cui i rimborsi eccetera eccetera per premio di buona amministrazione sotto i mesi fuori Zingaretti non li ha più candidati perché l'idea era tutti i nuovi nessuno che sia mai stato in Regione sicché gli ex consiglieri regionali del PD sono andati chi al Senato chi a fare il sindaco di Fiumicino però gli unici che sono stati mandati a casa sono stati radicali lo sai che gli italiani se fosse stato che potevano votare direttamente ti avrebbero mandato al Quirinalesi non credo le dinamiche elettorali io so che lei dice mi ammassero un po' di meno e mi votassero un po' di più sarebbe meglio e non è mai successo scusa sai non c'è mai stato però il momento proprio in cui poteva essere una elezione diretta eccetera ma in tutti i casi diciamo supponiamo che che comunque questo sia il sentimento ma scusa non ci vogliono manco in Regione e poi ci votano al Quirinale ma com'è la storia ma gli italiani ho detto politica forse un'altra cosa ma io butto lì una roba perché vedi io non sono mai stato radicale perché c'era pannella è percato e ma perché c'era pannella e ma te ne incolse guarda eh lo so però perché c'era pannella magari non ho capito no ti voglio fare ti volevo dire che insomma magari l'equazione Bonino-Pannella non sempre piace a tutti insomma perché deve piacere è un problema di piacere o è un problema di politica ma anche di politica perché ognuno non è proprio la stessa cosa no non è la stessa cosa nel senso che al di là delle antipatie o simpatie personali culture diverse tutto quello che ti pare ma nella sostanza a me io sono Marco mi ha insegnato le cose più importanti della mia vita in politica semplici semplici se tu vuoi che una cosa non si sappia non la fare guardate che applicare questo voi dite è facile no non è così facile oppure la durata è la forza delle cose che ti porta a dire che promuovere democrazia è un processo che infatti può andare anche indietro o promuovere diritti umani è un processo non è che è un evento domani mattina succede no è un processo e può andare anche indietro ma io sono un po' curioso gli ultimi dissapori sono superati no veramente io non lo so che è successo ma perché non vi sentite tra l'altro no eh vedi no ma il problema è e anche adesso che c'è questo problema che tutti vanno lì a fare il mio rapporto con Marco è durato 40 anni giuro che non ho bisogno di una passarella finale e chi va a trovarlo però mi sembra un bel gesto mi sembra un riconoscimento si se ci va col fotografo un po' meno insomma però insomma secondo me non averlo considerato mai questo come come personaggio di governo è stata una grande perdita per il nostro paese così come non aver mai considerato una possibilità radicale vera di credo sia insomma io fossi in voi voterai radicale mi sembra una grande no per voi no no per me anche no mi sembra veramente una polizza d'assicurazione fino all'ultimo ma no ma scusa fammi sentire votate a Roma sì entreranno 60 consiglieri comunali giusto? ma pagatevi il lusso di mandare dentro una spia radicale ma pagatevelo questo lusso vi giuro su questo c'è su questo c'è ragione senti ma non costa come va la tua battaglia vera? va fin qui bene poi insomma è un po' pesante non 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 riuscire a fare molta programmazione perché una un'attacca decisiva per sapere se questo maleducato se n'è andato per sempre o no ce l'avrò a a fine giugno però insomma fin qua hai combattuto senza mai avere un momento di faianza è che sono di legno non so ti chiedo vista così vista così ma no ma scusa ho avuto momenti la depressione no ma insomma di dolore insomma tu non sai cosa ti puoi aspettare non insomma io non ho mai avuto dolori fisici veri e quindi è già molto però e devo dire che essere malati è soprattutto noioso no ma è noioso perché tu hai una disciplina anche perché è abituato a viaggiare continuamente andare di qua di là no continuo a farlo con grande disperazione dei miei medici però devo dire che avere un team di medici di cui ti fidi è fantastico è veramente fantastico e soprattutto veramente è che non gliela voglio dare vinta questo signore maleducato sai io non so ma io non l'ho invitato questo signore si è infilato a casa tua senza chiedere il permesso ma si è infilato a casa e dentro di me io non l'ho invitato ma chi è ma che vuole da me insomma e poi è vero però insomma comunque secondo me ad oggi se n'è andato salvo che questo tipo di tumore ha il 90% di ricadute di possibilità di ricadute un anno alla fine del trattamento quindi verso giugno lo saprò per il momento è un po' pesante senti ma cosa vuoi fare da grande? politica ovviamente è l'unica passione che ho ovviamente senti però dopo di te Pino Corrias ci parlerà dei disordini sentimentali tu sei ancora innamorata solo della politica? ma scusa ma voi a parte fatti fatti tuoi no a parte fatti fatti tuoi ma mi prendete per una marziana ma se io sono una normale che si è innamorata che ha sofferto d'amore e che poi non si è innamorata più e beh insomma come succede a tutti voi non è che uno vive su marzo ma noi ti idealizziamo capisci? ti idealizziamo per cui ma guarda in realtà è difficile volersi bene perché innamorarsi non è che costa impegno è come prendere l'influenza no? succede è solo più energetico no? uno quando è innamorato specie se corrisposto si sente anche più bello tutte queste cose qua e non ci vuole molto impegno da lì ad amarsi già poi arrivare a volersi bene non a caso c'è il verbo volere perché bisogna proprio volerlo volersi bene necessità disciplina necessità capacità di tolleranza necessità direi soprattutto da parte delle donne scusate ma è così e insomma non è facile comunque se ci consenti noi ti vogliamo bene grazie Dima Bonio oh però se ci montate anche mi fate un piacere grazie state con noi diamo una mano al picco alla pubblicità fra poco bentornati a Roma incontra scrittore giornalista sceneggiatore autore per mondatore di questo libro che si chiama disordini sentimentali nove storie d'amore più una Pino Corrias vado eccoci qua ciao ciao accomodo più o meno siamo quasi simili perché lui è nato a Savona io a Genova siamo tutte e due del 55 tutte e due giornalisti che però fanno anche dell'altro e quindi più o meno siamo lì lui ha fatto un sacco di cose perché ha fatto inviato la stampa per 12 anni poi ha realizzato inchieste per la Rai ha sceneggiato fiction di successo come distretto di polizia ha prodotto la meglio gioventù con Marco Tullio Giordana per Rai per Rai l'ispettore Cogliandro collabora con vari giornali ha scritto molti libri tra cui quest'ultimo che racconta nove storie d'amore più una quella sua storie vere estratte diciamo dal grande romanzo della vita personaggi che più o meno ci possono anche assomigliare c'è di tutto è il contrario di tutto però queste dieci storie d'amore compresa la tua sono tutte molto tribolate allora la domanda è ma è inevitabile che le storie d'amore devono essere per forza tribolate cioè ce n'è una liscia 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 no beh quelle che vale la pena di raccontare sono quelle molto tribolate perché se no la felicità diciamo non è molto cioè è bello viverla la felicità ma non è molto interessante perché poi un po' tende a appunto a togliere gli spigoli a togliere i problemi a levigare gli ostacoli mentre invece le storie molto tormentate sono quelle che mi che ti intrigano che mi intrigano di più ma senti ma questi disordini sentimentali mi è piaciuto molto come definizione da dove viene perché quelli politici li abbiamo visti anche quelli degli scenari internazionali ma quelli dentro di noi io penso che per definizione siano proprio dei disordini non siano che è difficilissimo avere degli ordini sentimentali perché diciamo ci perdiamo ci perdiamo dentro come nei labirinti tu hai scritto l'amore rappresenta lo spartiacqua della nostra vita quel che separa dal prima dal dopo allora ti racconto una cosa io mi sono fidanzato a 15 anni sposato a 22 e dopo 45 stanno ancora con lei quindi io sono solo il dopo il prima praticamente ma avrai trovato i tuoi disordini anche in questa tua storia così lineare sì però diciamo disordini dentro un ordine diciamo quindi io non merito di essere raccontato però no ma io ho scelto io ho sentito a me piace ascoltare le storie e riprodurle e riraccontarle cambiando alcune cose a volte diciamo per rispetto delle persone che mi hanno raccontato la storia ma certamente laddove entrano di più i conflitti entrano di più i colpi di scena entrano di più anche le sofferenze che poi sono speculari all'entusiasmo alla passione alla felicità che certamente ci devono essere e tanto più mi sembrano interessanti ma questo libro l'hai scritto perché tu sei un po' scombusolato io sono un po' insomma sono scombusolato adesso l'ho buttata là per provocarti un po' no ho avuto parecchie storie adesso ne ho una invece che mi rende molto felice ma quella che racconti qui la famosa decima è quella attuale o quella rete? sono due insieme sono due storie insieme perché poi uno narrando le cose si le deve cambiare un po' certo non può essere proprio un referto preciso quanto un referto medico io penso che l'amore sia la più grande avventura diciamo in tempo di pace che gli uomini e le donne affrontano i tuoi innamorati sono tutti dediti alla ricerca dell'amore però i risultati insomma sono un po' così così ma cosa osta che l'innamorato riesca a trovare l'amore tanto bisogna essere in due bisogna mettere insieme due mondi come minimo bisogna avere un po' di fortuna io penso che no la fortuna per carità sia fondamentale l'idea di trovare l'anima gemella di trovare la persona che ti corrisponde la persona che chiude i tuoi vuoti e che ti consente di chiudere i suoi sia un miracolo spesso questa questa alchimia non c'è non funziona però non è detto che prima della separazione o tante cose invece siano tu dici che amore è amore anche se non è corrisposto ma si può amare senza essere amati in un tempo limitato sì tutta la vita diventa un'ossessione dopo un po' basta certo no ma in un tempo limitato sì ci sono i cuori infranti no quelli che stanno sempre ad aspettare lei o lei che sta sempre ad aspettare un lui che passa e se ne va è più lui o più lei che ha il cuore infranto secondo te in genere da parte chi lo sa no dipende non c'è una regola non c'è una regola ti direi che di più siamo noi ma insomma sarei interessato sarebbe un po' maschilista direbbe qualche femmina senti ma il fatto che tu abbia ambientato in posti molto particolari Laguna di Venezia i ghiacci del Canada il porto di Buenos Aires le varie storie è perché secondo te diciamo una componente fondamentale è l'atmosfera narrativamente più interessante a parte la narrativa ma diciamo anche dal punto di vista sostanziale conta le atmosfere assolutamente nelle storie d'amore uno si ricorda la luce di quel tramonto di quell'alba il paesaggio si ricorda oppure si ricorda che la luce non si spegne mai prima di andare a dormire quelle robe un po' così più banali è bello questo alto basso io penso al porto di Buenos Aires perché il porto di Buenos Aires è un posto pazzesco è un porto oceanico dove sono transitati milioni e milioni di immigrati e milioni e milioni di storie d'amore storie d'amore anche diciamo non romanticamente magari però sono storie di separazioni di incontri ma ti intriga di più l'euforia del primo momento o la disperazione del finale che va che beh da narratore la disperazione del finale da interprete diciamo l'euforia del momento ti direi quindi diciamo se tu hai mai scritto delle canzoni no delle canzoni no mi limito a cantarle a cantarle no ma no scherzo quindi tra Anna Oxa che dice quando nasce un amore e Cocciante che dice quando finisce un amore sto da parte di Anna Oxa a prescindere in tutti i casi in tutti i casi senti ma lo sconforto dell'addio ci sono tante reazioni fammi un po' una classifica di queste reazioni cioè c'è quello che si dispera a quello che diceva Simba va a fare ma dipende come ti prende un addio come ti arriva se ti arriva addosso come un tir a tu e i tuoi diciamo che hai fatto la disperazione un po' è durato poi insomma uno cerca di trovare una via riuscita di tirarsi su a volte sono durate molto però c'è anche una piacevolezza nella tristezza io trovo limitatamente diciamo perché se no poi arrivi al gesto irreparabile insomma però la tristezza poi ti fa andare avanti ti fa pensare ti fa riflettere ti fa fare i conti con te stesso con le tue paure con le tue fragilità e ti aggiunge qualche elemento per capire che cosa stai cercando cosa stai cercando nell'altra persona ma quelli che si portano dietro il rancore poi vorrebbero che succedesse nel mondo nel mondo ideale non dovrebbe essere così nel mondo reale è molto così secondo te è molto così molti rancori ma lo vediamo anche nella cronaca nera diciamo che i rancori a volte producono un disamore talmente forte che diventa poi violento però ce ne sono tantissime di storie così certo che lui usa una bella ironia perché dice le pene d'amore non influenzano l'anatomia del cuore ma l'insufficienza cardiaca sì quindi ci vuole pomicino e cardiologo pomicino per mettere a posto le cose nel libro parli di sesso e tradimento siccome abbiamo avuto un paio di settimane fa Willy Pasini qui che ci ha parlato di come sono cambiati questi sentimenti ai tempi nostri delle nuove tecnologie abbiamo preso spunto dal da perfetti sconosciuti il film a proposito ti sarebbe piaciuto scrivere una sceneggiatura come non sono riuscito ancora a vedere però tutti mi dicono che sia molto divertente si scambiano i telefonini ma è molto interessante perché noi ormai viviamo tante vite parallele e tante vite contemporaneamente e le viviamo più con delle persone se adesso io ti facessi mettere il telefono qui passi un paio di messaggi che ricevo adesso ho una vita molto tranquilla dicono tutti così si chiama copertura ecco appunto racconti comunque anche tu degli amori nati e chiusi via facebook no che no no non c'è no no ma ormai è impossibile raccontare una storia d'amore se non anche attraverso facebook perché la nostra frequentazione vedete quanta gente sta con la testa dentro il piccolo schermo dello smartphone sui nelle metropolitane per strada nei marciapiedi io ho letto un pezzo molto bello su questi pedoni che non guardano più nulla di quello che li circonda ma camminano con la testa dentro il telefonino e vanno a sbattere come se fossero delle automobili diciamo no e questo e questo ormai fa parte talmente tanto della nostra vita che nessuna storia d'amore più prescinde dagli smartphone dagli sms con tutte le complicazioni del caso quello di essere per esempio scoperti nelle tradimenti no tradimenti lasciano traccia secondo te la gelosia è in via di incremento o di decremento niente no no assolutamente rimane forte come sentimento assolutamente sì anche se appunto noi ormai siamo multitasking per cui abbiamo possiamo anche avere contemporaneamente tante storie ed essere gelosi di altrettante insomma siamo notevoli di mutanti notevoli non sia autobiografica ma così così è un'impressione ti sei fatto un'idea sbagliata diciamo sì senti no un'idea me la sono fatta quando ho visto che però una storia parla di quello che chiamerei il tradimento consapevole cioè lo scambismo lo scambismo secondo te è trasgressione o perversione o santo cielo no lo scambio boh si è accettato da entrambi i partner come dicono i sessuologi sono un po' di trasgressione sì è una delle tante forme di fantasie se non vorrei chiediti se l'hai praticato realizzabili no non te lo direi ecco appunto infatti no è una delle tante fantasie realizzabili che la gente pratica no ha molto a che fare dal mio punto di vista seriamente con il consumismo cioè ma insomma con il fatto che si prova tutto e si prova anche quello e che quindi è diciamo uno dei tanti oggetti disponibili sugli scaffali della vita sessuale come diceva Verdone o famostrano sì sì appunto c'è sempre stato però lo scambismo adesso è anche organizzato in locali e in luoghi specifici ma c'è sempre stato naturalmente perché il tradimento se ne parlava se ne parlava meno probabilmente in larga scala diciamo comunque nella scelta dei personaggi del libro non ti sei fatto mancare niente ninfomani travestiti masochisti quello che mi ha colpito di più sono le frigide mentali cosa vuol dire frigide mentali esistono spiegami un po' ma potrei chiedere a Willy Pasini hai scritto te il libro no ho capito le frigide mentali però frigide mentali quelle che insomma alla fine non 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 si perdono mai di vista e tendono a a un autocontrollo eccessivo e probabilmente non 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 riescono mai a dimenticarsi e quindi a donarsi diciamo il fatto che si abbia la sensazione ma non è un manuale di sessualità no no hai capito per carità ma sai curiosità il fatto che si abbia la sensazione che ci sia una quantità di ossessione nell'amore nel tradimento eccetera è dovuta al fatto che c'è maggiore attenzione da parte degli organi di informazione alle vicende di cronaca per cui ci costruiamo sopra fino al plastico di 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 Vespa oppure oppure effettivamente le cose sono cambiate quindi noi rileviamo no credo che conti molto il fatto che se ne parla tanto perché beh le televisioni ci campano su questo perché ma perché fa tanto così tanto io non lo guardo mai ma perché fa così tanto di essere sta roba a me francamente è infatti beh perché è una forma è un è un retro bottega di parrucchieri allargato alla la nazione diciamo dove le persone raccontano i fatti loro e le storie di cronaca nera le storie di cronaca rosa diciamo sono quelle che 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 funzionano di più da un punto di vista produttivo la televisione spende molto poco perché allestisce un talk che va avanti tutte le mattine tutti i pomeriggi poi vabbè diventano politici alla sera ma insomma però costano poco e rendono molto perché perché la gente si appassiona come si appassionava alle prima c'erano i rotocalchi no? c'erano i rotocalchi oltre ai fotoromanzi i rotocalchi raccontavano le storie delle principesse o le storie delle star del cinema oggi la televisione che ha allargato a dismisura questo racconto lo fa con le persone normali con le persone della porta accanto con le storie sbriciolate dalla cronaca oppure insanguinate dalla cronaca senti che rapporto c'è tra il disordine sentimentale quindi interiore e il disordine chiamiamolo sociale chi influenza di più l'altro delle due credo che si influenzino a vicenda i disordini sentimentali sono anche un lusso a volte cioè il fatto che tu puoi avere più tempo di dedicare all'amore alla passione agli incontri penso ai periodi o ai luoghi di guerra della guerra io sono stato nei Balcani sono stato in Kurdistan lì non so come dire non c'è tempo per l'amore non c'è tempo non dico che non ci sia tempo per l'amore non c'è tempo per distrarsi dalle questioni legate alla sopravvivenza e quindi la vita quotidiana si perde nell'essenziale nel mangiare rifugiarsi e sopravvivere naturalmente nelle nostre società ben nutrite ben riscaldate con molto tempo libero e con incontri grazie al cielo con incontri con opportunità è evidente che poi questi disordini sentimentali che non è una cosa brutta io penso che i sentimenti siano di per sé disordinati infatti questo secondo me è il concetto che emerge dal libro è esattamente questo è che di per sé i sentimenti sono disordinati se noi abbiamo tempo di coltivarli per me è un bene è una cosa che ci arricchisce la vita senti dopo di te sul palco viene Tullio De Piscopo che è un mio amico l'ho appena incontrato ecco qual è la colonna sonora tua dei tuoi amori c'è una colonna sonora c'è una musica ah io sei la soul music è sempre stata la mia grande passione ma in particolare c'è un brano che perché stai per metterlo no no non sapendolo ah no che ti posso dire Blood, Sweet and Tears ma insomma tutta la musica afro ma perché Tullio De Piscopo è il tuo idolo perché ascoltavo Napoli Centrale che era il gruppo suo ho sempre ascoltato lui mi piaceva molto Pino Daniele mi piaceva molto quella musica nero rock napoletana di cui lui è stato un grande allora mettiamo un attimo da parte i disordini sentimentali ma vi consiglio molto di leggerlo perché non è solo bello ma anche istruttivo interessante e diamo poi spazio dopo di lui non trattandosi non trattandosi di un manuale non è un manuale è assolutamente un romanzo grazie a Pino Corrias di essere stato con noi grazie diamo una mano al picco alla pubblicità fra poco accomodate bentornati a Roma incontra ultima parte dedicata a un batterista percussionista cantautore tra i miei preferiti se no il mio preferito Tullio De Piscopo comodati qua portati comodati steve carenne assettate guaglio allora Napolitano 70 anni appena compiuti beccati questo eh ma guarda un po' come se li porta figlio d'arte perché suo padre Giuseppe suonava nell'orchestra del San Carlo di Napoli nonno di quattro nipotini e suona praticamente da quando è nato io credo che ci avesse già le cose incorporate in quando è nato se nasce con la camicia e tu sei nato con la bacchetta ha fatto soprattutto jazz nei club napoletani poi a 23 anni è andato a Torino e ha cominciato una carriera che l'ho visto a fianco di Piazzolla Chad Becker Mina Celentano Garosone Manu Ciavo Albano chi più ne ha più ne metta soprattutto stati celebri i suoi tour con Pino Daniele è autore di colonne sonore per film importanti con registi come Squittieri Lanniloide e Crescenzo ha avuto anche successo come cantante perché con andamento lento nel 1988 ha partecipato a Sanremo e ha vinto il Festival Bar l'ultima volta che l'abbiamo incontrato era il 2014 a Roma Incontra e c'aveva un'autobiografia che si chiamava Tempo la mia vita oggi invece c'ha questo cofanetto è una trilogia che raccoglie tutti i suoi migliori successi e anche degli inediti e si chiama 50 musica senza padrone allora come ti senti con questi 50 anni di carriera sulle spalle? Io ho iniziato adesso praticamente ah è che appena io ho iniziato dopo l'avventura del 2012 dopo sono tornato a casa dopo essere stato perché lui anche lui ha combattuto una battaglia importante contro la malattia che ha vinto l'ha mandata a quel paese e hai detto va però bisogna sempre stare eh lo so in allerta e sempre prevenire la prevenzione la prevenzione è la chiave di tutto perché la nostra salute è un bene prezioso quindi non dobbiamo aver timore di andare è un pizzico no 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 lago no nelle mie carni lago no ma quando mai sono due minuti è vero o no? non mi fa svenire subito ah 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 senti senti ma hai dichiarato che la musica è come un abito che ti cuce addosso di cui non ti puoi più disfare sì ci descrivi il tuo abito ma guarda il mio abito è è fatto di di amore altruismo perché insegnare ai giovani bisogna essere altruisti se no non si può insegnare io conosco tanti insegnanti che innanzitutto bisognerebbe insegnare a loro come come porsi davanti ai giovani quindi il vestito è fatto di amore di di pace ma la voglia la tenacia sempre la passione ecco la passione per tutte le cose che fai senti e tu hai visto che quando ho detto andamento lento c'è stato un brusio in sala perché è la canzone più famosa tua o no? beh c'è anche e allora e allora qui qui cattacicova c'è stop bayon primavera che quella veramente ha girato tutto il mondo facciamo una cosa sentiamoci i 20 secondi di andamento lento che così ce lo riporta alla memoria se lo ricordano vedi vedi vediamo se hanno ritmo però continuiamo con le mani 1 2 3 4 ce l'hanno il ritmo ce l'hanno il ritmo ce l'hanno il ritmo scusa se vuoi fare un po' più di ritmo guardati che c'è qui? eh quello che potevamo fare madonna vai vai sfogati e come e come ma è con le bacchette non c'hai le bacchette dietro le bacchette sono sono la tua protuberanza guarda guarda come si prepara devo prendere confidenze eh vedi un po' io non lo so noi abbiamo preso quello che ci avevamo a disposizione non è che non è che potevamo fare diversamente io solitamente bevo un po' di birra prima di esibirmi eh volete volete ah ecco si può fare si può fare musica con tutto senti ma è vero che andamento lento è nato in taxi come il giornale che fai con il giornale? tocca a lei io stavo leggendo l'ho messo qui ah eh però si può fare qualcosa con il giornale o no? che può fare? vediamo eh ma che ti sei portato eh poca roba poca roba quello è per sbattere l'uovo chissà chissà quanti di loro per fare la maionese chissà quanti di loro hanno hanno ballato il foxtrot foxtrot oppure ecco vedi basta un giornale ti chiedevo ma è vero che andamento lento è nato in taxi? si e com'è questa cosa? io incontrai ma non funziona ma è meglio così ce l'hai un po' messo lì di lato incontrai Marco Lavera a era il padrone il figlio di grande Gianni Lavera all'aeroporto di Fiumicino oh come va? stavo andando a Milano dice ma dai era il mese di ottobre dice dai prepara un pezzo per Sanremo e dico ma scusa Marco ma non me la sento non sono un artista da Sanremo insomma non so non saprei come scrivere amore mio ti voglio bene se la mia vita io senza te non posso stare una da volta dice ma no dice no tu devi fare la tua musica quello che sai fare tu adesso si ti ringrazio parlerò col produttore di fatti telefonai telefonai subito al produttore e ci mettemmo a lavorare assieme ai fratelli Capuano c'era questo questo brano che bello ma non c'era il testo perché quando facemmo un provinetto era we smile we can in this car it bing bing go one linda stop par in l'ancin go anna lida to stay pausa anna lida to stay pausa wanna give babanin the question meaning bo bo però era questo inglese questo inglese maccheronico leggermente maccheronico direi il produttore non voleva che io scrivessi il testo bo sai doveva fare Sanremo voleva una firma più prestigiosa autorevole prestigiosa però abbiamo fatto dei tentativi ma non veniva fuori non veniva fuori il ritmo perché sembra facile scrivere i testi sul ritmo su questi ritmi belli sinuosi non è facile ci siamo ritrovati all'ultimo momento mancavano 36 ore mesi di gennaio dell'88 per consegnare la demo per Sanremo non abbiamo trovato il testo allora dico va bene allora proviamo tutti assieme facciamo qualcosa ci troviamo domani eravamo qui a Roma all'hotel Clodio ci troviamo domani lì vicino a Ostia abitavano i fratelli Capuano e tentiamo chiamai un taxi dovevo essere lì alle 3 chiamai un taxi intorno alle alle 14 il taxi fa giusto 100 metri dall'hotel Clodio il piazzale Clodio tutto bloccato la piazza le macchine una sopra l'altra e dissi scusi ma allora faccio tardi per andare all'appuntamento io ero preoccupato per fare questo brano e che vuole a Roma è tutto un andamento lento eccolo là Zack vedi gli hai dato scusa un po' di copyright al tassista le voleva tutto un andamento lento tutto qua la prima cosa che è arrivata era la frase che non c'era nel provino cioè andamento lento andamento cambio armonico andamento lento bella bella ricetta dissi bella bella perché ho visto che la signora dice ma che ha detto no dissi io dicette dice la stessa cosa allora dissi il momento buono era Enrico l'anno giusto il giorno giusto il mese giusto quanto vuole non devo più andare all'appuntamento quanto vuole per andare a Napoli e sei andato direttamente e famo quattro piotte cosa sono le piotte 400.000 lire va buono allora telefono a Mimo Cuglie va bene però non devi fare l'autostrada devi fare tutto il lungomare a Litorania a Litorania a Gennaio i cavalloni le onde ce l'hai i mancianastri dissi si e mi si provino una liga di queste le onde scivola bella come un'onda libera ti porta via andamento eccolo là alla fine arriviamo a Napoli il testo finito lo portai a mangiare una bella pizza ma dove dobbiamo andare a suonare adesso no ci mangiamo una bella pizza da Marino a Santa Lucia e adesso dove andiamo un attimo a Porta Capuana a dare un bacio alla mia mamma via San Giovanni a Capuana hai fatto un po' completo eh broca eh già che ero lì eh già che c'eri salgo dalla mamma dico mamma ha giù scritto una bella cosa o era mamma e gli feci sentire vieni 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 via con me la prima stesura era vieni via con me e non c'era la risposta vieni via con me bel bel vedrai che ti dà la soddisfazione a mamma questo pezzo aveva ragione aveva ragione perché io poi pensai pensai ma guarda ma ci possiamo giocare tutto il tempo solo su eh però è bello però è bello salci però a certo punto io pensai no è una storia che bisogna conoscere pensai ma domenico modugno volare oh cantare oh vieni via con me non è buono vieni via vieni vieni con me modugno oh vieni vieni con me oh poi per non far vedere faccia stessa cosa vieni vieni con me e io ci metto la e e poi alelai 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 viene appri e sa me alelai non significa niente però suona suona ma quando hai fatto con Astor Piazzola libertango spero che sia andata un po' diversamente la cosa diamo 20 secondi di libertango così ci che meraviglia che meraviglia qui come è nata questa incredibile questo è il brano io ho avuto la fortuna l'onore di suonare con Astor Piazzola in ben 10 long plan il primo è stato questo qui che ancora oggi è il brano più suonato nei grandi teatri di tutto il mondo libertango tutti lo conoscono ancora oggi nelle pubblicità si sente questo brano no io non prendo niente perché io ero ero session man fui pagato per la registratura peccato peccato e usaccio 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 sì senti ma l'incontro con Astor Piazzola mi chiedevi eh allora c'era c'era un addetto alla convocazione dei musicisti solitamente quando mi chiamavano non mi dicevano mai con chi dovevo suonare cosa dovevo fare cosa dovevo portare e quella mattina mi chiamò il convocatore dice tebiscopo sei libero il 24 aprile alle ore 9 anche il 25 alla Mondial Sound aspetti sì sì sono libero ciao è possibile ma cosa dovrò fare con chi devo suonare allora richiamo scusi ma non è in modo di fare vorrei sapere che strumenti devo portare qualche percussione delle bacchette particolari con chi devo suonare che musica ci sarà ma no un fisarmonicista allora io dissi saranno della Romagna qualcuno della Romagna Romagna mia ma sì ma come si chiama Astor Piazzola beh Astor sono i nomi che mettono Nestor Astor normalmente in Romagna non lo conoscevo io questo genio la sera andai a suonare e trovai Marco Ratti grande cultore di tutta la musica dici Marco per caso chi sei anche tu alla Mondial il 24 aprile no ma perché no c'è un un fisarmonicista volevo sapere se lo conosci no sarà uno della Romagna di sì ma come si chiama Astor Piazzolla Azz Astor Piazzolla Astor ehi Astor Piazzolla fisarmonicista no bandoneonista bandoneon suona il bandone non sapevo neanche cos'era il bandone e Tullio ma è un genio ah ma forse non è lui dici e guarda che è anche è anche uno che manda a casa i musicisti se non stanno in sintonia con la sua musica azz cominciamo buoni e poi ci fu l'incontro magico alla prima proprio alla prima senti ma l'incontro più importante credo sia stato quello con Pino Daniele sì sì un ricordo di lui oggi ma lui è sempre presente proprio anche oggi perché l'altro giorno è stato il suo compleanno e anche l'onomastico sabato lui è sempre presente con me proprio oggi mentre ero in albergo pensavo a tutte le cose che avevamo fatto perché poi ultimamente stavamo sempre qui a Roma assieme facevamo delle prove dovevamo registrare aveva pronto dei brani straordinari in dialetto napoletano purtroppo il destino destino io ho voluto dedicare un brano perché dovevo hai dedicato destino destino e speranza il suo destino e la speranza di quell'ultimo viaggio che fece da 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 senti io quello non lo farei ascoltare perché lo trovate qua e comprate comprate la trilogia però dedicali una cosa che ti viene così appino appino la prima cosa che ti viene usando quell'armamentario là quello che vuoi vai qualcosa che che piaceva a lui eh cosa cosa gli avresti fatto se fosse stato qua in sala ad ascoltarti vabbè la prima cosa è questa vai vai se ti devi sedere siedi fai quello che vuoi è una pentola di casa questa non è che è Non voglio evaltire Dedicato a Pino Daniele Che c'hai lì? Strumento infernale Vediamolo Guarda che è di casa mia quella roba lì Non distruggere tutto Questo non c'entra niente Vabbè buta Ah bene Vedi? Tullio De Piscopo 50 anni di carriera Grande Tullio De Piscopo Sono 70 70 ma non si vedono Grazie di essere stati con noi Ci fermiamo per le festività pasquali Ci rivediamo il 4 di aprile Sempre a quest'ora Sempre qui e sempre poi Sulle televisioni cui siete abituati a vederci Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.